Le risorse della Boldrini, ecco come finirà l'Italia, tutti su una graziella in autostrada, a comandare. Sarebbe prima stato inviato in una chat privata e poi condiviso sui social il video, diventato virale in poche ore, postato da un agente della Polstrada, ora sospeso dal servizio, nel quale si sentono insulti razzisti, anche nei riguardi della Presidente della Camera, Laura Boldrini. Il video della durata di 51 secondi ritrae un extracomunitario sorpreso a percorrere in bicicletta l'autostrada Torino-Bardonecchia con gli auricolari alle orecchie. Nei riguardi del poliziotto è stato avviato un procedimento disciplinare. Condividete signori, condividete!